Ok ragazzi, ascoltatemi, io sono Gabri Costa, dopo che siamo usciti dal laboratorio di Shanzung, ora siamo in questa foresta vivente, useremo Baraka e sconfiggeremo Ashra. Non sarà facile, ma non vi preoccupate, insieme a Baraka c'è il suo cameo Reptile. Non pensiate che sia finita qui, perché la modalità storia di Mortal Kombat 1 continua. E' veramente nervosa questa Ashra. Mi sembra che l'abbiamo eliminata. Vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Abbiamo finito. Non siamo. Gremoni.